Finalmente approviamo lo statuto del Forum dei Giovani del Comune di Napoli, uno strumento che non c'è mai stato nella nostra città e che adesso potrà nascere e dare un'opportunità importante ai nostri giovani. Adesso abbiamo approvato lo statuto dopo una grande consultazione, questo statuto adesso andrà in Consiglio Comunale, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale ci saranno le vere e proprie elezioni con delle liste che dovranno essere presentate, con i candidati consiglieri che faranno parte appunto del nostro forum e di un candidato o di una candidata presidente. I partecipanti al Forum dei Giovani sono tutti coloro che risiedono nel Comune di Napoli e che hanno tra i 16 e i 35 anni. Per le cariche elettive però bisognerà avere 18 anni, come una sorta di Consiglio Comunale con un'età inferiore appunto rispetto a quella dei nostri consiglieri comunali. Quindi si riuniranno in commissioni così come proprio fa il Consiglio Comunale sulle tematiche che riguardano la nostra città e ci auguriamo che dal loro punto di vista anche con modalità magari più smart ci possano essere delle idee, dei contributi che appunto come previsto allo statuto una volta l'anno loro esporranno a tutti i consiglieri comunali della nostra città.